Per evitare la beffa di approvare un codice e di spendere 60 miliardi di PNRR che sono in capo al mio Ministero e tutti gli altri soldi che spenderemo in infrastrutture, noi stiamo vivendo, io lo sto vivendo da Ministro da 5 mesi, ho fatto diversi confronti a Stoccolma, a Bruxelles, a Berlino, a Parigi, a Roma, con Ministri europei, siamo all'assurdo che c'è un'ideologia green, perché la chiamo ideologia non per altro, che si sostituisce alla vecchia ideologia destra-sinistra, adesso c'è l'ideologia green che sostanzialmente sta avendo come unico risultato quello di mettere fuori competizione le imprese italiane e europee per farle trasferire o negli Stati Uniti o in Cina e in Turchia. Io ho chiesto che nel codice degli appalti italiani venissero inseriti per l'acquisto di materiali che poi vanno a fare strade, autostrade, ferrovie, porti e aeroporti, voglio un criterio di premialità per chi utilizza materiali che vengono prodotti in paesi dove vengono rispettati criteri ambientali e diritti dei lavoratori. Non posso spendere soldi italiani per andare a prendere materiale in Cina o in Turchia con tutto l'amore del mondo. Quindi questo è qualcosa che è in norma. Il Ministro non deve portare qualcosa che vorrebbe fare. Il Ministro, siccome è un dipendente pubblico che si alza la mattina ed è pagato dal contribuente italiano, deve portare quello che ha fatto. Quindi codice degli appalti.